Grande, il mondo va così, ma non finisce qui Eh, mi devo fidare anche perché, vero, faremo direttamente il ruolo sul colmino Domani, guarda, qua Piazza Beccaria alle 10 Ok Eh, vabbè, ciao Oh, però, mi raccomando, è puntualissime D'accordo, grazie, ciao Ciao, ciao Ma invece di quella minore, perché non provi a mettere un re settima? Portandovi da me Eh, così è meglio, eh, bravo, bravo Cinque minuti e un jet partirà portandoti via da me Cinque minuti per noi Poi anche tu partirei Io non so che darei per parlarti, ma tu non mi ascolti già più niente Senti che bravi questi Maurizio, mi è sempre piaciuto Di dov'è l'artista che si è?